Vigolzone, paese sulle prime colline della Valnure, ha 4.221 abitanti. Il 26 maggio saranno 3.449 quelli chiamati alle urne a scegliere il proprio sindaco e la nuova amministrazione comunale che guiderà il paese per i prossimi 5 anni. Due le liste in corsa, entrambe civiche, che secondo l'ordine di apparizione sulla scheda elettorale sono uniti per Vigolzone con candidato sindaco Gianluca Argellati, figlio del compianto Werner già sindaco e vice sindaco del paese, e Vigolzone insieme con candidato sindaco Silvia Milza, assessora alla cultura dell'amministrazione Rolleri. Spiegano personalmente i punti principali del loro programma. Tre punti cardine del nostro programma riguardano lo sport, il sociale e l'ambiente. Per quanto riguarda lo sport, intendiamo realizzare un campo da calcio ad 11 in erba sintetica. Intendiamo altresì riqualificare un'area già esistente, il campo da tennis, in un campo polivalente su cui far giocare i nostri ragazzi. Per quanto riguarda i sociali, il punto fondamentale cardine di questo capitolo è la realizzazione di una casa protetta per anziani e l'attivazione di un social taxi. Per quanto riguarda l'ambiente, intendiamo realizzare un parco sulle rive del Nure naturale. Il programma della lista civica Vigolzone insieme è concreto ma ambizioso e punta per seguire uno sviluppo sostenibile con la valorizzazione e la tutela del territorio e l'erogazione di nuovi servizi ai cittadini, soprattutto quelli più fragili. Infatti abbiamo in programma l'attivazione del taxi sociale e dei servizi di consegna dei pasti e della spesa a domicilio per le persone anziani e per chi vive da solo. Vogliamo inoltre realizzare un grande parco pubblico nell'area di proprietà comunale che si trova tra la piscina e l'asilo nido e poi abbiamo in programma di realizzare la pista ciclopedonale che colleghi tutti i centri del comune e che segua il tracciato della ciclovia Piacenza-Bettola.